Al via da oggi a Cremona la 72esima fiera internazionale bovino da latte, che sin dall'inizio si conferma come la fiera dei numeri. In 55.000 metri quadri di zootecnia, oltre 800 marchi presenti da tutto il mondo, più di 60.000 operatori, più 15% gli espositori dall'estero, 20 le delegazioni di compratori e tecnici da 16 paesi stranieri. L'apertura avvenuta questa mattina, il rituale taglio del nastro, ha dato il via all'importante Kermes, con il clou nel pomeriggio alla presenza del ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. In calendario fino a sabato un centinaio di eventi, tra convegni, seminari e workshop, il milk, il bio e il techno e il bioenergy village, la mostra della razza frisona con oltre 400 campionesi in campo per il miglior mercato della genetica internazionale. Cifre importanti, cifre che rilanciano Cremona sul palcoscenico dell'agricoltura internazionale.